Ciao Marco, potenti mezzi oggi. Potenti mezzi oggi, al Pistoia Blues. Ciao. Ciao, senti al volo intanto, come è andato il concetto di Susan Vega ieri sera? Susan Vega, pensavo ci fosse più gente, comunque per il fatto che era gratis, soprattutto per gli abitanti di Pistoia, però è andato bene, lei ha una bellissima voce, una grande artista, veramente. La gente stava bene, prendeva bene, tutti cantavano queste anzioni famose di lei, non molto aggiornate magari, però insomma è soddisfacente, a me piace Susan Vega, è una bella voce. Peccato non si sia riempita la piazza, forse se lo meritava. Se lo meritava, sì, comunque c'era gente, non come mi sarei aspettato, però forse anche perché c'era Bobo Rondelli qua vicino che aveva fatto gratis, aveva fatto una serata ieri sera, era stata rinviata due volte, insomma è andata così. Senti, di altro che ci racconti? Di altro che vi racconto è questo Blues Festival, oggi per il concerto di stasera delle scimmie dell'Artico, Arctic Monkeys, si sta già riempiendo la piazza da stamani di giovanissimi teenager, un sacco di ragazzini, e stasera vedremo questi pazzi che si scatenano sul palco di Piste da Blues. Sarà la prima sera scatenata senza altro. Quasi l'ultima a questo punto. Quasi l'ultima, anzi senza il quasi. Senti, poi domani oltre a raccontarci questo concetto comincerai anche a fare un bilancio finale di questo festival. Un bilancio finale, tra l'altro domani vado a suonare in Sardegna al Reggae Festival di Fort Don Janus, e sicché sarà l'ultima puntata di questo breve viaggio nel Pistoia Blues Festival. Vedi, passano ragazze, passa gente, siamo già pronti, è il largo anticipo, è la prima volta che si vede un movimento così di giorno intorno a Piazza Duomo. Senti, ti senti entusiasta? Sì, sì. Alla fine ti è piaciuto questo 35esimo festival? Guarda, te l'ho già detto, questo Blues Festival mi è piaciuto molto. Siamo pronti per una nuova edizione, ci sarà da correggere qualche errore, però comunque l'organizzazione è una macchina che ormai sa lavorare e niente, voto positivo. Senti, di questi artisti che abbiamo visto, quali faresti ritornare magari fra qualche anno? Va bene, allora farei ritornare. Senz'altro, guarda, un po' per parte, perché io ascolto solo reggae music dall'85, quindi l'IPR con l'Alpha Band senz'altro, perché hanno suonato benissimo, mi sono piaciuti tantissimo. E poi anche Jack Johnson mi è piaciuto molto, ha un bello stile molto havaiano, l'altra sera c'era un'atmosfera veramente particolare in tutto il pubblico che dondolavano qua e là, molto bello. Poi per il resto, vabbè, Robert Plant ormai è un mostro sacro, nulla da dire, anche se come avevo già detto ha fatto uno show un po' diverso, però belli, sì. Mi piacerebbe vedere Damian Marley a me, uno dei figli di Bob Marley che veramente, ora come ora, secondo me è l'artista numero uno del mondo. Senti, si parla da anni di fare un museo a Pistoia, del blues, della musica, ecco, è stato fatto un piccolo tentativo in questi giorni, dietro di te c'è il cartellone, 35 anni di blues però con una piccola, interessante mostra che però è durata pochissimo tempo. È durata pochissimo tempo, sarebbe una bella cosa perché la musica è parte fondamentale della vita di una persona perché dà sensazioni che nessun'altra cosa può dare, sicché secondo me musea sulla musica, non solo sul blues, ma sulla musica in generale, sarebbe un'ottima cosa. E poi sai che Pistoia ha un'immagine nel mondo molto accreditata per la musica, cioè nel mondo penso ne siamo intenditori. Sì, sì, siamo partiti con gli organi. Siamo partiti con gli organi e siamo finiti con l'armonico. Perfetto. E con questa perla di saggezza facci sentire il rombo del potente mezzo. Facci sentire il rombo del Vespino. Vi saluto, ci sentiamo domani. Ciao Marco! Ciao ragazzi! Buona fortuna a tutti!